Questa meditazione è guidata da Edoardo Conte, fondatore del portale della fratellanza fraternity.it e serve per penetrare il valore del servizio. Chiudiamo gli occhi e facciamoci piccoli tanto da poter entrare nel nostro cuore. Il cuore che sa connettersi con tutte le dimensioni e tutte le frequenze della vita. Il cuore che non conosce limiti e confini. Entriamo nel cuore e ascoltiamo il suo battito rassicurante. Entriamo nella grotta dove nasce il bambino interiore e da quel battito sentiamo espandersi un'onda. Cavalchiamo quell'onda che si espande nella profondità del cuore, sempre più in profondità, fino a scorgere un punto di luce nella profondità del cuore. L'onda si avvicina sempre di più al punto di luce finché lo raggiunge e penetra il suo centro. Ora siamo in quel centro origine della luce. È un centro pieno di vuoto, saturo di silenzio. il silenzio entra in noi e attiva l'ascolto. Ascoltiamo il dolore che accompagna l'umanità e attraverso l'amore si trasmuta in servizio. Lo ascoltiamo dentro di noi e fuori di noi, tutt'attorno. Sentiamo per la prima volta che possiamo servire il piano divino, nel modo più semplice, donando il nostro amore alle faccende del mondo. Sentiamo nel cuore che il servizio nostro e degli altri è in realtà uno solo. È il servizio che ognuno di noi dona al mondo, secondo la propria attitudine, secondo la vocazione e il talento. E il cielo risponde, risponde all'invocazione sincera del cuore. «Discende dal cielo la coscienza di Cristo, in una sfera splendente di bianco e di azzurro. Discende e avvolge il nostro servizio nel suo abbraccio che non fa distinzioni. Il nostro servizio è accolto nella sua luce che lo sostiene e lo infiamma d'amore. Ora so che il servizio ha in sé la forza del silenzio, dell'ascolto, dell'accoglienza, dell'unione, del sostegno e in sintesi dell'amore. So che la forza del servizio è nel cuore ardente, come il fuoco che purifica e trasforma ogni degrado. portiamo ora la qualità della nostra vocazione di servizio, portiamola nel cuore e risaliamo l'onda in superficie. Nel nostro cuore vi è solo il servizio amorevole, il servizio che non conosce limiti e frontiere. Teniamo la preziosa qualità del nostro servizio custodita nel cuore, affinché non esaurisca mai la sua sorgente d'amore. Ed ora torniamo alla coscienza di veglia, ciascuno coi propri tempi. Grazie. 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 Grazie.